Do la parola a Elisabetta Armiato, già etuale del Teatro alla Scala, presidente di Pensare Oltre. Buongiorno a tutti. Apriamo anche noi il Salone del Libro qui con voi e abbiamo scelto questo giorno perché davanti alla manifestazione culturale internazionale e alla più grande vetrina del Piemonte dedicata a leggere e scrivere, Pensare Oltre si sta preoccupando che nel futuro qualcuno possa leggere e possa scrivere. Noi approcciamo questo tema e mi fa molto piacere vedere qui così tanti studenti e quindi quello che noi stiamo facendo è per voi perché voi siete il nostro futuro. Quindi grazie di essere qui. Perché c'è bisogno di pensare oltre? Perché noi assistiamo a uno schema nel mondo dell'istruzione e nella scuola dove è imperante la moda dei disturbi. Non ci chiediamo che cosa questa moda a medio e lungo termine potrà creare per lo studente di oggi, per il bambino di oggi, l'adulto di domani. E quindi che cosa succederà nel futuro a questa società? Da oltre un decennio, Pensare Oltre, il movimento culturale funge da osservatorio nazionale su questo fenomeno dei disturbi, in particolare disturbi dell'apprendimento, dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia, che è dilagante e la disamina che noi facciamo degli ultimi 20-30 anni è una degenerazione costante all'interno del sistema educativo scolastico di tutti quegli strumenti fondamentali che hanno cresciuto tutti noi. Valida didattica, arte, sport, relazione con la natura e un'essenza pedagogica nella scuola. raccogliamo la preoccupazione di genitori, cultura e impresa per questa crescente attribuzione di incapacità di imparare ai nostri bambini. O abbiamo un'epidemia di incapaci o c'è qualcosa che noi non stiamo guardando. Che cos'è? Noi abbiamo attribuite quotidianamente, scusate, appioppate etichette ad ogni difficoltà scolastica o ad ogni comportamento a bambini di 6, 7, 8 anni, fra poco anche all'asilo. Stiamo cominciando a cercare l'incapace, la difficoltà, la mancanza di talento e ci stiamo concentrando su quella. Sembra che la scuola, al posto del momento educativo, di socializzazione e di potenziale che ognuno di noi trova, è diventata la caccia di quello che non va bene in noi. Ecco perché c'è bisogno di pensare oltre. I bambini di oggi sono gli uomini di domani ed è una questione del futuro di questa società che ci riguarda tutti, adesso e qui. Non so se cogliete questo aspetto perché tra dieci anni, vent'anni, questi bambini di oggi saranno l'ingegnere, l'imprenditore, il panettiere, il politico e guideranno la società che noi stiamo costruendo. Il Comitato Scientifico Culturale di Pensare Oltre, dopo anni di attento studio e approfondimento, ha isolato moltissime cause reali delle difficoltà di una scuola che appare impotente davanti alla moda dei disturbi. Una scuola che sembra sempre di più una clinica e sempre di meno un luogo del sapere. Da qui il nostro titolo, una scuola ripensata dove rifiorisca il valore del sapere. Occorre fare un attento monitoraggio dei metodi didattici e pedagogici che oggi viviamo nella scuola pubblica. E questo anche in considerazione di quello che noi ereditiamo dall'estero, dove gli intellettuali, gli studiosi con cui collaboriamo ci segnalano 55 milioni di adolescenti incapaci di leggere un articolo di giornale che vivono con un vocabolario di 200 parole. Quello che è il risultato degli strumenti dispensativi, quindi strumenti che tolgono il programma, la formazione, lo studio di parola, ai nostri certificati dislessici. E che sono compensati, come diceva il dottor Perrini, da un bel iPad con il T9 che ti fa la parolina al posto tuo. Noi ci siamo assunti questa responsabilità sociale di osservatorio nazionale sull'andamento di tutta il cambiamento delle didattiche, della pedagogia e dell'approccio all'infanzia. Ed è un ruolo sociale che sempre di più famiglie, istituzioni e imprese ci stanno riconoscendo. Ora noi non stiamo dicendo che non ci sono problemi, che non ci siano difficoltà, che non ci siano differenza nell'approccio allo studio. Vi faccio un chiaro esempio. Io ero e sono una bambina vivacissima ed ero anche, come si suol dire, incapace di far di conto. Quindi oggi, se fossi nella scuola elementare, non avrei una diagnosi. Due. Iperattiva e discalculica. Siccome trent'anni fa non esisteva la moda dei disturbi, io ho avuto l'opportunità di non saltare sui banchi, ma di saltare al teatro alla scala e, come vedete, in trent'anni ho trovato un modo di incanalare questo potenziale che mi ha permesso di dare un contributo alla società. E devo dire che la matematica io l'ho imparata contando i passi della danza e sono cresciuta nel sapere senza nessuna difficoltà. Certo, mi sono dovuta allenare molto di più e prendere tante ripetizioni di matematica perché a me, che era una mente artistica proprio, non ci azzeccavo con i numeri. Ma una cosa è avere una difficoltà e approcciare un metodo che funzioni. Una cosa è dirmi che io avevo una inabilità funzionale, la chiamano neurodiversità. Sono nata così, non ce la posso fare. Questo è un messaggio che noi stiamo trasmettendo ai nostri bambini. È così vero che io mi calo nel contesto e ieri parlo con questa bambina che sarà con noi al Salone del Libro e ci viene ad aiutare come un volontario che oggi ha 11 anni. Questa bambina ha 6, 7, 8 anni, è stata, fra virgolette, minacciata di diagnosi, di iperattività, discalculia, oppositiva, provocatoria e non mi ricordo cos'altro. La mamma, essendo un'insegnante, si è fortemente battuta contro l'etichetta che volevano appioppare alla bambina, che oggi ha 11 anni, dopo aver fatto la scuola e la mamma a casa che gli ha insegnato le tabellini, ha 9 in matematica. Il professore di matematica gli chiede se gli può fare da assistente perché lei trova tutti i metodi per applicare i conti e tutte le compagne la seguono. Ora, com'è possibile che una con una neurodiversità a 7 anni e a 11 anni sia capace di fare i conti? Peraltro ti sorge un dubbio. Allora ho chiesto a questa bambina, gli ho detto ma qual è la differenza tra essere a 7 anni una bambina incapace di imparare le tabelline ed essere adesso addirittura con il professore che ti encomia ti fa fare l'esempio. I professori. E la seconda cosa è che un bambino quando non capisce la lezione non ha il coraggio di dire che non ha capito perché gli altri compagni o il professore gli dicono che lui non è intelligente come gli altri. Le etichette sono già entrate nella moda, anche tra i bambini. Quindi c'hai la classe con 3 dislessici, 5 BES, 2 ADHD, sembriamo coperti di sigle, ma il bambino dov'è? Credo che siate consapevoli di qualcosa che forse ha toccato anche voi nel passato o nel presente. Ora parliamo di disturbi. Che cos'è un disturbo? Vi leggo la definizione del British Journal of Psychiatry, non quella che diamo noi, ma quella che ci dà l'apparato psicodiagnostico della psichiatria. Disturbo una significativa variazione del comportamento rispetto alla media degli individui di quell'età e cultura. Una significativa variazione del comportamento rispetto alla media. Dove sta la medicina? Dove sta la scienza? Dove sta la prova organica di una differenza o di un'alterazione organica in questi bambini? Dov'è? Quindi quello che noi stiamo cercando di individuare sono proprio quelle cause che all'interno del sistema didattico, del sistema sociale, della famiglia, della pedagogia, sono saltate. Per cui i bambini ha voglia che hanno difficoltà a scuola. A questo punto, alla fine, noi ci ritroviamo a dover cercare di rivalorizzare tradizioni che per secoli hanno formato gli uomini di ogni civiltà. Adesso abbiamo la fissa dell'innovazione, per cui è tutto vecchio. Per cui se impari 21 lettere, che sono il codice alfabetico con cui costruiresti tutte le parole e impari nove numeri facendo tre mele e tre pere, è tutto passato. Non è veloce, non è immediato. Noi siamo un'impresa culturale e un'impresa si costruisce un passo alla volta per durare nel tempo. Non è speculazione. Chiunque degli imprenditori che sono qui sa che la speculazione porta al crollo di un'impresa. Noi non vogliamo che il bambino impari cento parole a memoria tutti subito e visto che bravo che legge. Copiare una parola visivamente, memorizzarla come un segno, non è leggere. Il bambino che non sa più fare il corsivo scrive tutte le lettere insieme perché gli insegnano lo stampatello e il corsivo tutto insieme. E poi dicono, visto che è disgrafico, non è un risultato che costruisce nel tempo. Noi, come impresa culturale, vogliamo che questi bambini ereditino quello che stiamo costruendo noi e che possano contribuire a migliorarlo se gliene diamo la possibilità e se gli formiamo gli strumenti reali per farlo, quelli culturali. Quindi noi insistiamo fortemente su una valida didattica, su una creazione artistica, il gioco, la bellezza, la musica e sul valore dello sport e della relazione con la natura che oggi ci ha portato qua ad inaugurare la partnership come mini-corritorino su una manifestazione che educa e che è educante, che porta il bambino a fare un movimento sano e che non costa nulla correre con la propria famiglia e che ti porta a stare insieme, a comunicare. Non è che ci vuole, come si dice, l'essenza e l'elisir della saggezza innata, ci vuole vita e un po' di buonsenso per tornare a dare agli adulti un approccio corretto all'infanzia, perché non mi stancherò mai di ripetere che i bambini di oggi sono gli uomini di domani e c'è bisogno di pensare oltre. Grazie.